Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. Traffico al momento regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della Toscana. In A1 l'area di servizio di Chianti Ovest, in direzione Roma, non eroga benzina per un guasto all'impianto. Sulla Fipilì chiusa per lavori l'uscita di Tirrenia provenendo da Firenze. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata e il ristringimento di carreggiata tra San Casciano e l'allacciamento per la 1 di Firenze in Pruneta. La statale Duecassia è chiusa a causa di una frana fino al 7 gennaio tra il bidio per Radicofani e quello di Ponte Arrigo in entrambe le direzioni. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato per lavori all'altezza del chilometro 16 nel comune di Reggello. Morsi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Buon viaggio!